buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo un corso in miracoli anche oggi registro in mezzo ad un bosco con gli uccellini il venticello fresco un cielo azzurrissimo brillante di blu le nuvole che si spostano veloci i fiori che cominciano a fiorire a sbocciare e da tutto questo ti ricordo la perfezione che c'è e la perfezione che sei sei completamente sicuro e oggi forse non hai bisogno di andare in nessuno spazio dove ti senti protetto perché sai già di esserlo e allora esattamente da qui così ascoltiamo le parole dell'idea di oggi lezione numero 93 luce gioia e pace dimorano in me tu pensi di essere la dimora del male dell'oscurità e del peccato pensi che se qualcuno potesse vedere la verità su di te proverebbe repulsione ritraendosi da te come se fosse un serpente velenoso pensi che se ciò che è vero su di te ti fosse rivelato sareste colpito da un orrore così intenso che correresti a procurarti la morte con le tue stesse mani essendo impossibile continuare a vivere dopo aver visto ciò queste sono credenze impresse così fermamente che è difficile aiutarti a vedere che non sono fondate su niente che tu abbia commesso degli errori è ovvio che hai cercato la salvezza in strani modi sei stato ingannato ingannatore hai avuto paura di sciocche fantasie e sogni crudeli e ti sei inchinato dinanzi a idoli fatti di polvere tutto questo è vero a causa di ciò in cui ora credi oggi mettiamo in discussione questa cosa non dal punto di vista di ciò che pensi ma da un punto di riferimento molto diverso dal quale pensieri tanto futili sono privi di significato questi pensieri non sono in accordo con la volontà di dio egli non condivide con te queste strane credenze ciò è sufficiente per dimostrare che sono sbagliate ma tu non lo percepisci così perché mai non dovresti essere più che felice nella vera assicurazione che tutto il male che pensi di aver fatto non è mai stato fatto che tutti i tuoi peccati non sono niente che sei puro e santo come foste creato e che la luce la gioia e la pace dimorano in te la tua immagine di te stesso non può contrapporsi alla volontà di dio pensi che questo sia la morte invece la vita pensi di venire distrutto invece vieni salvato il sé che hai fatto tu non è il figlio di dio pertanto questo sé non esiste affatto e qualunque cosa esso sembri fare e pensare non significa niente non è né buono né cattivo è irreale e niente più di questo non combatte contro il figlio di dio non lo ferisce ne attacca la sua pace non ha cambiato la creazione ne ha ridotto a peccato l'eterna innocenza nell'amore in odio che potere può possedere questo se che hai fatto tu dal momento che vuol contraddire la volontà di dio la tua assenza di peccato è garantita da dio questo dovrà essere continuamente ripetuto finché verrà accettato è vero la tua assenza di peccato è garantita da dio nulla può toccarla o cambiare ciò che dio ha creato eterno il sé che hai fatto tu malvagio e peccaminoso è senza significato la tua assenza di peccato è garantita da dio e luce gioia e pace dimorano in te la salvezza non richiede che l'accettazione di un solo pensiero tu sei come dio ti ha creato e non ciò che tu hai fatto di te stesso qualunque male pensi di aver fatto sei come dio ti ha creato qualsiasi errore tu abbia commesso la verità su di te è mutata la creazione è eterna ed inalterabile la tua assenza di peccato è garantita da dio sei e sarai per sempre esattamente come sei stato creato luce gioia e pace dimorano in te perché dio le ha messe lì nei nostri periodi di pratica più lunghi che sarebbero di maggior profitto se fatti nei primi cinque minuti di ogni ora in cui sei sveglio incomincia affermando la verità sulla tua creazione luce gioia e pace dimorano in me la mia assenza di peccato è garantita da dio poi metti via le tue sciocche immagini di te stesso e passa il resto del periodo di pratica cercando di provare ciò che dio ti ha donato al posto di ciò che hai decretato per te stesso o sei ciò che dio ha creato o ciò che hai fatto tu un solo se è vero l'altro non esiste cerca di sentire l'unità del tuo unico se cerca di apprezzarne la santità e l'amore dal quale è stato creato cerca di non interferire con il se che dio ha creato e che tu sei nascondendone la maestà dietro i minuscoli idoli di male e peccato che hai costruito per sostenerlo lascialo entrare in se stesso ecco questo sei tu e luce gioia e pace dimorano in te perché è così può darsi che tu non sia disposto o perfino non in grado di usare i primi cinque minuti di ogni ora per questi esercizi cerca comunque di farlo quando puoi ricorda almeno di ripetere questi pensieri ogni ora luce gioia e pace dimorano in me la mia assenza di peccato è garantita da dio poi e cerca di dedicare almeno un minuto circa a chiudere gli occhi ed a renderti conto che questa è un'affermazione della verità su di te se emerge una situazione che sembra essere di disturbo fai svanire rapidamente l'illusione della paura ripetendo nuovamente questi pensieri se fossi tentato di arrabbiarti con qualcuno digli silenziosamente luce gioia e pace dimorano in te la tua assenza di peccato è garantita da dio oggi puoi fare molto per la salvezza del mondo oggi puoi fare molto per avvicinarti di più alla parte che dio ti ha segnato nella salvezza e puoi fare molto oggi per portare alla tua mente la convinzione che l'idea del giorno è proprio vera luce gioia e pace dimorano in me so che molti passi durante la nostra giornata nella nostra vita li facciamo pensando di avere dei sospesi delle cose in sospeso nel nostro passato che sarebbe a dire delle colpe delle colpe che vanno pagate in qualche modo o delle colpe per le quali in qualche modo siamo puniti ok per le quali dobbiamo tenere questo peso sulle spalle o sullo stomaco mentre viviamo mentre agiamo nella vita di tutti i giorni quelle colpe quelle cose di sospeso che sbucano fuori di tanto in tanto dicendoci che non siamo degni che non meritiamo che abbiamo peccato ecco prova oggi ad accorgerti che le cose che pensi che la persona che pensavi di essere abbia fatto non sono reali non hanno alcun significato non potevi fare meglio di così non poteva accadere nulla di diverso e la pace che sei la dignità che hai e la salvezza che in te non sono minimamente intaccate e questo senza dubbio vale anche per le persone che tu pensi abbiano delle colpe liberale non devono scusarsi non devono farsi perdonare nessuno ti deve niente e tu non devi niente a nessuno senti la libertà di questo senti che ora puoi riconoscere che qualunque cosa di tra virgolette sbagliato una persona possa fare è perché in quel momento quella persona ritiene che in quel gesto in quell'azione si trovi la salvezza e ovviamente non è corretto ma tu lo sai sai che sta agendo perché sta cercando la salvezza lì dove non è e tu lo sai e per questo provi compassione provi compassione per questa persona che non ti deve niente e provi compassione per te perché sai che nel tuo passato qualunque azione o peccato tu pensi di aver fatto è perché non sapevi e cercavi la salvezza lì dove non stava qualunque atto anche brutto diciamo che tu hai fatto è perché pensavi che in quell'atto stesse la tua salvezza comportarti male dire una bugia tu in realtà non volevi dire una bugia perché nessuno desidera dire una bugia ma magari desidera dire una bugia per per dimostrare qualcosa o perché ha paura del giudizio o per mille altre ragioni in ogni caso queste azioni avvengono perché si crede che la salvezza stia in questa azione ma ora lo sai ora lo sai che la salvezza non sta lì e la pace la luce e la salvezza già sono dentro te tu sei già in salvo tu sei già in pace nessuno ti deve niente e tu non devi niente a nessuno ti mando un saluto dal bosco e leone che si sta per svegliare trovi il testo per la pratica nel profilo instagram leggendo miracoli e mi ritrovi qui domani con la lezione numero 94 buona giornata buona giornata a